Il Globo Fratturato e questo è il titolo della settima edizione di Mani Visibili, le giornate di economia organizzate a Lanciano e dedicate ad uno dei più grandi economisti italiani, Marcello De Cecco, studiosi, giornalisti e mondo dell'impresa a confronto per raccontare il quadro geopolitico attuale e discutere di futuro dell'innovazione, politiche comunitarie, prospettive del multilateralismo e opportunità per il mezzogiorno. Quest'anno abbiamo dato questo titolo Il Globo Fratturato che ci racconta di questa giornata tremenda, di un periodo in cui le tensioni, le guerre determinano alterazioni di processi profondi. Quello sul quale ci concentreremo molto è la globalizzazione che dopo 30 anni in cui abbiamo allungato le catene produttive, pensato di poter tutti collaborare per la crescita del benessere collettivo, adesso incontra degli ostacoli e quindi ci sono dei passi laterali o indietro, lo scopriremo, per riorganizzare le catene di produzione, per dare maggiore sicurezza ai processi produttivi. Perché quello che abbiamo scoperto in questi ultimissimi anni è che basta che si fermi per qualche settimana il canale di Suez e si creano dei problemi che durano mesi poi nelle catene di approvvigionamento delle imprese. E quindi adesso al concetto di efficienza, che è stato quello che ha dominato la globalizzazione, si aggiunge quello di resilienza, cioè di capacità di resistere alle difficoltà e di riprendersi dopo le difficoltà. Il panel, che chiuderà mani visibili domenica 14 ottobre dalle 10.30, si occuperà di mezzogiorno, tra politiche industriali, catene di valore e futuro dell'automotive. L'ultima sessione, tradizionalmente nelle giornate di economia Marcello De Cecco, noi la dedichiamo al mezzogiorno e in questo caso in particolare esamineremo gli effetti di questa rottura, di questa frammentazione sul mezzogiorno, ma anche le opportunità che crea i processi di rilocalizzazione delle imprese, eccetera, eccetera. In particolare affronteremo anche il tema dell'automotive, e qui c'è un distretto molto importante che sta attraversando un momento difficile, e quindi approfondiremo anche lì le prospettive, i problemi, le opportunità. Ed è stato inaugurato il Fondo Librario Marcello De Cecco, ospitato a Palazzo degli Studi in Corso Trento e Trieste, negli spazi dell'ex liceo Ginnasio Cittadino, frequentati dall'economista, hanno trovato sede ben 2337 volumi della Biblioteca Professionale del Professore, che lavorò nell'Università di tutto il mondo, mantenendo sempre un legame speciale con l'Abruzzo e l'Anciano. L'occasione di quest'anno è di inaugurare questa biblioteca sperando che poi questi libri saranno utilizzati, non saranno solo collocati lì, ma utilizzati dalla comunità di Lanciano e da chiunque voglia interessarsi agli argomenti di ricerca. I temi di questi libri sono tantissimi, finanza, moneta, banca, territorio, e quindi siamo sicuri che tanti e tante troveranno argomento di interesse per questi libri.